Salve! Considerando che sta piovendo contro i vetri, se mia mamma se ne accorge tipo mi mena, mi conviene sbrigarmi e fare subito questo video in modo che ce lo leviamo subito dai marocchi. Allora, sabato c'è stato io e Napoli, ancora in bianco, però d'altro canto, come avranno reagito i tifosi napoletani? Per esempio Domenico la prende abbastanza bene, dicendo semplicemente Zaza sparati, dopato tu e tutta la Rubentus. Mentre invece Massimo, Zaza, solo il tuo nome fa ridere. Cavolo, anche a me mi ha fatto particolarmente ridere sabato sera, però non mi ricordo bene perché. Ma vai a caccare, lotta ad opato. Nonostante non abbia scritto in dialetto napoletano incomprensibile uguale, però va bene. Mentre invece Rosario è andato a fare un corso con Nostradamus e ha detto, se Bonucci non avesse sfiorato quel pallone togliendolo dalla testa del Pipita si sarebbe visto un finale diverso dalla deviazione che ha spiazzato Reina. Tacete ridicoli. Mentre invece Goran è stato sul classico. Hanno rubato. Va bene. Qui invece il discorso si fa un pochino più, diciamo, complesso, no? È stato fatto un discorso un pochino più articolato. È venuta fuori una cazzata lo stesso, però il discorso è stato comunque articolato. E il discorso precisamente lo fa Giovanni, che dice, tre minuti di recupero sono ridicoli. Zaza non avrebbe dovuto giocare, Alan veniva fischiato ad ogni respiro. La ciliegina sulla torta a dire che la Juve meritava di... Zaza non avrebbe dovuto giocare. E questa cosa qui è stata detta diverse volte, stranamente dai tifosi napoletani o anti-juventini. Però il regolamento dice che... Espulsione diretto per somma di ammunizioni di uno o più giocatori dal campo sportivo durante una gara darà luogo alla squalifica automatica degli stessi per la partita di campionato successiva. Per la partita di campionato successiva. Che tra l'altro, se vi ricordate, o se non vi ricordate ve lo dico io, quando Mertens è stato espulso contro il sassuolo, gli è stata data una giornata. Però lì, ovviamente, andava bene a tutti. Alan veniva fischiato ad ogni respiro. Grazie al cazzo è un cane, cioè... La ciliegina sulla torta a dire che la Juve meritava di... No, meritava di più il Napoli. Non ha fatto un tiro in porta, però meritava di più il Napoli. E per finire, questo post è dedicato a tutti quelli che mi attaccarono qualche settimana fa, quando scrissi che Zaza meritava minimo due giornate per quel fallaccio. Tutti a dire, ma che ti mette paura Zaza? Ma stai pensando a Zaza? Juventus-Napoli 1-0. Gol di Zaza. Godo. Quindi, detto ciò, questo qui è stato un video, così alla fine, per scherzare, come sempre. Non prendetelo come un sanno sfottò, normale, tranquillo. Cazzo, dopo quattro mesi di agonia siamo ritornati dove ci compete, quindi ci sta essere abbastanza contenti. Però, come ha detto anche Buffon, tutto sommato noi non abbiamo fatto ancora nulla. Il campionato finisce tra 11 giornate, quindi da qui alla fine del campionato ci sono molte partite e bisognerà dimostrare di essere all'altezza, di stare dove stiamo in questo momento qui. Quindi, ragazzi, un saluto a tutti, ci vediamo venerdì sera e forza Juve. Io spero che vinciamo lo Scudetto quest'anno e spero che la Juve non ruba. Non ruba. Perché già si è visto con l'Udinese, già si è rubato una partita con l'Udinese. Già sta cominciando. Speriamo che... Io non lo sport è bello a vincere mezzo al campo, no? A rubare. Io non lo sport è bello a vincere mezzo al campo, no? A rubare.